Il Ministero Pastorale del Vescovo si esprime in particolare in tre dimensioni. L'insegnamento, o monus docenti, la santificazione, o monus santificandi, e il governo, o monus trecenti. Queste tre funzioni sono inseparabili. Il Vescovo, infatti, quando insegna, nello stesso tempo santifica e governa, mentre santifica, nello stesso tempo insegna e governa. Quando governa, nello stesso tempo insegna e santifica. In virtù della pienezza del sacramento dell'ordine, il Vescovo è innanzitutto autentico testimone e maestro della tradizione apostolica nella porzione del popolo di Dio a lui affidata.